La capolista Sera di Falco sarà impegnata nel derby contro il Riesi nel più classico dei testa coda. L'altra capolista Niscemi domani ospiterà il più ostico atletico Favara. Impegni in trasferta per Sommatinese, Don Bosco, Mussomeli e Accademia Mazzarinese, mentre il Gela ospiterà la Barrese. Prima categoria, Girone F, sesta giornata di campionato. Niscemi, Atletico Favara. Sant'Anna Enna, Sommatinese. Atletico Santa Croce, Alessandria della Rocca. Don Bosco 2000, Don Bosco Mussomeli. Gela, Barrese. Aragona Accademia Mazzarinese, Riesi, Sera di Falco. In seconda categoria riposa il Girone B, dove sono inserite Atletico Villalba, Bombenziere e Campofranco, che riprenderà il prossimo 12 novembre. Turno casalingo invece per il Terranova, quinto in classifica, che ospiterà il Melilli, che sosta nelle zone basse. Seconda categoria, Girone E, sesta giornata di campionato. Ragusa Bois Canicattinese, Terranova Melilli, Cassibile Sanconitana, Priolo Filbordon, Calat Pozzallo II, Lapinetina Vittoria. Riposa Real Sicilia 2022. Esordio stagionale in terza categoria per le due squadre di Caltanissetta. Esordio casalingo per la nuova Pronissa, che ospiterà il Don Bosco, mentre l'Atletico Nissa sarà di scena a Marianopoli. Terza categoria, Girone Caltanissetta, prima giornata di campionato. Acquaviva Caterinese 2023. Buterese Juve Terranova. Marianopoli, Atletico Nissa. Nuova Pronissa, Don Bosco. Real Gela, Amogela.